Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Questa notte sono arrivate delle notizie sia ufficiali da una parte ma anche alcuni rumor da fonti molto molto affidabili all'interno dei DC Studios riguardo il futuro di questo nuovo progetto che in teoria James Gunn e Peter Safran porteranno nei prossimi anni. Tra cancellazioni, stop ai lavori oppure alcune conferme devo ammettere che sono curioso di vedere il futuro della DC in sala. Prima di iniziare però come sempre vi invito a seguirmi su tutti gli altri sociali i link sono nella descrizione assieme al link di Pampling codice Il Pensiero 4 per avere un paio di calze gratis e in questo periodo ci sono anche dei pack preparati così da avere già il regalo per Natale. Sempre in descrizione trovate il link di Tickets for Nerd la pagina nerd di News, Rumor, Leak e tanto altro dal mondo nerd e dalla cultura pop dove in tempo reale ho pubblicato questa notte le notizie di cui parleremo oggi quindi se volete rimanere aggiornati davvero al secondo zero su tutte le novità andate a seguire quella pagina. Direi di partire però parlando di Black Adam 2 perché secondo The Hollywood Reporter il film è abbastanza improbabile e direi anche grazie visto lo scarso successo del film. Ho già pubblicato la recensione di Black Adam quindi se volete sapere cosa ne penso più nel dettaglio andate a vedere quel video però comunque non è un film che ho apprezzato al 100% e sinceramente anche se un giorno non dovesse arrivare un Black Adam 2 non me ne fregherebbe nulla. Nonostante The Rock mi stia simpatico, almeno mi stava simpatico prima di qualche uscita in questo periodo per proprio Black Adam sarò malvagio io ma goto giusto un pochino di questa notizia almeno per ora è un rumor ma da The Hollywood Reporter possiamo già prenderla come cosa certa. Parlando sempre di Black Adam è arrivata notizia che stanno sviluppando un film spin-off su Oakman e vabbè non so perché non ho parole perché comunque non è un personaggio così interessante nel film non mi ha fatto impazzire ho preferito molto di più Dr. Fate ed è strano che non abbiano dedicato a lui uno spin-off però magari con uno stand-alone entreranno più nel personaggio anche se proprio il modo in cui l'hanno trattato in Black Adam soprattutto sul finale avrei giusto qualcosina da ridire. E parlando sempre di sequel sembra che i lavori di Wonder Woman 3 si siano bloccati per arrivare direttamente alla cancellazione del film e anche in questo caso sinceramente non me ne potrebbe fregar nulla. Il primo Wonder Woman ok è carino mi è piaciuto il secondo fa altamente schifo quindi se dovessero ufficialmente cancellare Wonder Woman 3 davvero zero interesse. Parliamo anche di Man of Steel 2 perché a quanto pare nonostante tutte le grandissime notizie della presenza del film nei pensieri di DC Studios comunque l'intenzione di farlo il film potrebbe essere cancellato. Già è divertente come cosa e guardate un po' proprio forse per colpa di Black Adam e no non sto parlando del Black Adam contro Superman tanto paventato da The Rock ma proprio per colpa del film di Black Adam perché con la post credit ormai diciamo non è più uno spoiler anzi non è mai stato uno spoiler visto che lo stesso The Rock ne parlava da Jimmy Fallon da Jimmy Killmall da tutti sapevamo più di Superman che doveva essere una sorpresa che invece della trama a causa di quella post credit i DC Studios hanno capito finalmente che probabilmente non frega niente a nessuno del Superman di Henry Cavill e quindi possibilmente un Man of Steel 2 potrebbe avere un grande insuccesso tanto quanto Black Adam. Tutti questi sono solamente rumor quindi non prendete per certo quello che sto dicendo in questo video però penso siano notizie abbastanza ufficiose soprattutto da queste fonti. Le ultime notizie riguardano Aquaman The Lost Kingdom il regno perduto come volete chiamarlo lo chiamate perché è arrivata notizia che questo potrebbe essere l'ultimo film di Jason Momoa come Aquaman e ho voluto dire proprio Jason Momoa come Aquaman non solamente Aquaman perché c'è chi pensa che il personaggio potrebbe morire in questo sequel con dei reshoot che verranno fatti e soprattutto altre voci dicono che i DC Studios Peter Safran e James Gunn stiano veramente lavorando a un film sul lobo tanto che James Gunn ha comunque pubblicato una foto qualche giorno fa, qualche settimana fa comunque ha pubblicato una foto sui social dello stesso lobo e proprio Jason Momoa è stato preso in considerazione per il ruolo quindi potrebbe smettere di essere Aquaman e finalmente diventare lobo visto che è praticamente lui già nei fumetti non conosco benissimo lobo però per quel che so non vedo l'ora di vedere il film soprattutto se a lavorarci comunque in qualche modo ci sarà James Gunn dietro c'è comunque James Gunn anche se non sarà alla regia The Suicide Squad è il mio film preferito in assoluto dei DC Studios quindi hype, assolutamente io come molti mi immagino davvero Kevin Feige e tutti i suoi sottoposti piangere prima di dormire pensando a quando hanno deciso di buttare fuori James Gunn qualche anno fa per poi sì, riprenderlo infatti non vedo l'ora di vedere i Guardiani della Galassia volume 3 me li immagino davvero tristissimi ma ragazzi questo era solo un video informativo di queste ultime notizie arrivate questa notte vi ricordo quindi se volete rimanere aggiornati in tempo reale su tutte le notizie dal mondo nerd dalla cultura pop cinema, serie tv, videogiochi tutte cose seguite il profilo Instagram Tickets for Nerd i link sono in descrizione assieme al link degli altri miei social e il link di Pumpling codice del pensiero 4 per supportare il canale avere un paio di calze gratis a scelta e in questo periodo potete tranquillamente fare qualche regalo di Natale quella e ragazzi io sono Andri questo è stato un altro mio pensiero per voi noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale Andri passa e chiude ciao